Qui se ce l'hai il picciolino lì va la squama, qui se vuoi gratta e vinci, gratta e carota e vinci la saluta, si chiama Giuliana, insalata fina fina, è buonissima insalata, io era biondo, maniato carota e biancato nero, si chiara anche zucchina se vuoi fare pasta, se vuoi fare insalata, se vuoi fare pizza Giuliana qui per fare zucchini, anche qui se vuoi fare zucchina per fare pastella, dingo in pastella, putti in pastella, qui se vuoi fare, è il ministero Tutta la tatina, zucchina, carota e patata, famo il ministero, qui se non c'è cacchio da fare, metti dentro il shampoo, e via, la bollicina, anche il bollicino, qui c'è tutte le spigazioni in egiziano, si sono comunque in egiziano solo, si, c'è anche il telefono, assistenza, chiamami, io mando via la social, e quell'altra per bucare la patata, questo qui, guarda come si buca la patata, ecco qua, vedi il ferretto e metti dentro il manichetto, il ferretto, il manichetto, stanno dentro il scatoletto, quando metti dentro la patata, devi spinni, dentro la patata, devi spinni, o sei scordato, non mi ricordo più come si fa, devi spinni un po', giri finché arrivi, fermi là, lì va il manico, lì va il ferro, non tirare di svidare la patata, non tirare di svidare la patata, qui due, patata per far fritta nell'olio, sennò fai la patata col pollo, al forno, ecco il pollo, ecco la patata, un po' nero perché è africano, questa è una polla milanesi, bella, una volta bucchi la patata, metti carni, salsiccia, ripieni, sennò fai la patata col buco per dimagrire, no, stai bene, non devi dimagrire, no, no, va bene, se non vuoi dei ladrini, infili la carota, ti entra la patata, non sai come si infili la carota, ti entra la patata, no, va bene, ecco qua, così fiamo le carote e patata col pollo, quando metti il pollo al forno, guarda che carina, ecco qua, se metti al forno, col pollo al forno, qua, se non mani il pollo, c'hai il cane, fiamo il cane con patata, è buonissimo al forno, quando vuoi bucare la zucchina, devi fare piano, perché la patata devi spinne sempre, e la zucchina no, perché è morbida, però devi andare sempre dritto, non c'è drizione evitata, non ti ferma nessuno, sempre dritto, e quando arrivi, fermi là, stiamo parlando della zucchina, non stiamo parlando della zucchina, gli fa il manico, gli fa il ferro e svidi la patata là, hai capito? qui metti i carni, se no metti il vetro qua, il vetro là, vedi a stella, se vuoi fare pure gli occhi, fanno gli occhetti là, e che gli occhi?